Congratulazioni signor Juncker per questa promozione. La sua utopia federalistica, l'Europa delle Nazioni, noi la combatteremo qui nei paesi rispettivi, combatteremo con sempre maggiore energia perché ogni giorno misuriamo i progressi nelle nostre nazioni. In Francia e in altri paesi i patrioti sono i più numerosi, sono incoraggiati dal risultato delle elezioni, scrutinio dopo scrutinio, aspettano solo una cosa, poter inviare la sua convenzione e le tecnostrutture europee al dimenticatoio della storia. Nel frattempo lotteremo contro lei, noi patrioti saremo i più scrupolosi osservatori, denunceremo presso i popoli, denuncerò al popolo francese i progetti nefasti di Bruxelles. Lei è osservato dai popoli, sotto sorveglianza, come tutti quelli che rappresentano un sistema che sta crollando, non ha voluto prendere la misura, ma tutti i patrioti d'Europa la terranno sotto controllo, senza tregua.